L'Atalanta continua a sfornare gioielli Amici di Mondo Azzurro, ben trovati da Emanuele Tramaciere Oggi parliamo di Leonardo Mendicino, centrocampista classe 2006 appunto dell'Atalanta e dell'Italia, anno del 17, anno del 18 con l'anno del 17 è stato protagonista degli ultimi europei con Corradi Lui sta facendo una stagione da protagonista in under 23 dove sta trovando tanto spazio da titolare però di fatto ha già trovato l'esordio in Europa League e l'esordio in Serie A contro la Lazio con appunto Gasperini in panchina in prima squadra con cui è sempre aggregato Lui nasce nella dominante squadra in cui è cresciuto anche Matteo Pessina poi passa a Renate, lì dopo un anno difficile in cui addirittura aveva pensato di smettere o comunque fare un passo indietro in carriera esplode, passa da difensore centrale a centrocampista al centro dell'azione e lì l'Atalanta lo nota e lo porta subito nel suo settore giovanile battendo la concorrenza di tanti altri club Come detto, centrocampista centrale che vuole la palla fra i piedi per fare un paragone in Serie A potremmo paragonarlo a Stanislav Lobotka anche se per visione e adesso sinistro di piede lui si ispira molto a Theon Kupmeier Grazie Grazie Grazie.